Oggi è San Valentino e quindi ho deciso che vi parlo di tutt'altro! Oggi sto guardando Brooklyn Nine-Nine come al solito e il detective Amy Santiago ha scritto la lavagna Astronomy 101. Quando vedete quel numero 101 di fianco al nome di una materia vuol dire che quella materia è spiegata in maniera semplice, in maniera elementare, in maniera base, cioè sta spiegando i principi base dell'astronomia, non è astronomia avanzata. Trovate su Amazon tantissimi libri, World History 101, vi spiegano la storia del mondo ma in maniera base, in maniera semplice. Problem Solving 101. E poi c'è il mio preferito che è 101 Dalmatians. Ma da dove deriva questo 101? Deriva da le università americane che davano un numero ad ogni classe. Il primo numerino, in questo caso il numero 1, sta a determinare l'anno dell'università. Se io sono al primo anno universitario, ho tutte le classi che iniziano con il numero 1, ok? Il secondo numero è il numero identificativo della classe, che ne so. Astronomia è numero 0, storia è numero 1, inglese è numero 2, eccetera, eccetera, eccetera. L'ultimo numerino invece sta ad identificare il livello. Cioè se io sono, sì al primo anno, però magari nel primo anno ci sono due livelli di astronomia. Quindi il primo si chiama 101, il secondo si chiama 102. Poi al secondo anno ricomincia, no? 201, 202, eccetera. Quindi deriva proprio da lì. In questo caso il numero 101, 101, è sempre il numero iniziale. E quindi è per questo che se io dico Astronomia 101, Astronomy 101, Problem Solving 101, World History 101, vuol dire che parto dall'inizio, parto dalla base.